Buongiorno, bentrovati al consiglio di appuntamento con in mattino 6, mercoledì 11 novembre 2015, apriamo con il santo del giorno San Martino, l'estate di San Martino, proprio nella giornata di oggi, dunque viene ricordato proprio questo santo San Martino di Tur, uno dei più illustri ornamenti della chiesa nel secolo V, fu certamente San Martino, vescovo di Tur, fondatore del monachesimo in Francia, nato nel 316 in Sibaria, città della Pannonia, l'odierna Ungheria, da genitori nobili, ma pagani ancora bambino, si trasferì a Pavia, dove conobbe la religione cristiana, a dieci anni all'insaputa dei genitori, si fece catecumeno e prese a frequentare le assemblee cristiane appena a dodicenne, deliberò di ritirarsi nel deserto, essendo però figlio di un tribuno, dovette presto seguire il padre nella cavalleria e per tre anni militare sotto gli imperatori Costanzo e Giuliano, umile e caritatevole, aveva per attendere uno schiavo al quale però egli puliva i calzari e che trattava come fratello, un giorno nel rigore dell'inverno era in marcia per Amien, incontrò un povero seminudo sprovvisto di denaro, tagliò con la spada metà del suo mantello e lo coprì la notte seguente, Gesù in sembianza di povero gli apparve mostrandogli il mantello e disse Martino ancora catecumeno mai coperto con questo mantello. Vescovo di Tur, formidabile lottatore, instancabile missionario, grandissimo vescovo, sempre vicino e bisognosi ai poveri e ai perseguitati, disprezzato dai nobili, irriso dai fatui, malvisto anche da una parte del clero che trovava scomodo un vescovo troppo esigente. Martino resse la diocesi di Tur per 27 anni in mezzo a contrasti e persecuzioni, tormentato con querele e false accuse da un suo prete di nome Brizio, diceva se Cristo ha sopportato Giuda perché non dovrei sopportare Brizio? Stremato di forze, malato, pregava signore se sono ancora necessario al tuo popolo non mi rifiuto di soffrire altrimenti venga la morte nel 397 Ud che a Candate era sorto un grave scisma ma tante sono state le pratiche religiose di San Martino che è sepolto proprio a Tur dove gli fu dedicata la cattedrale e dove egli compì innumerevoli miracoli. Dunque San Martino di Tur viene ricordato dalla Chiesa Cattolica nella giornata di oggi, l'estate di San Martino 11 novembre, noi apriamo la nostra consueta rassegna stampa con le prime pagine dei nostri giornali, partiamo dal centro l'edizione di Pescara per vedere come apre il quotidiano d'Abruzzo con i titoli della prima pagina, titolo a tutta pagina possiamo dire riguarda un fatto di cronaca avvenuto l'altra sera a Pescara, ragazzino rapinato sull'autobus, in due strappano il cellulare ad un quindicenne e lo minacciano, sono stati arrestati poi gli autori di questa rapina, due giovani nordafricani e poi la fotonotizia perché si parla tanto in questione del delitto di Ancona dove un giovane, un ragazzo di una sedicenne avrebbe ammazzato la mamma della ragazza e ferito gravemente il papà e la morgia avvocato pescarese è proprio il difensore di questa ragazza sedicenne dunque minorenne e poi nelle cronache a Pescara tragedie colli precipita dal balcone muore a 78 anni e poi il progetto del comune la tassa sui turisti un euro a notte negli alberghi e poi a Montesilvano sentenza per danni il suocero di Maragno dunque il suocero del sindaco di Montesilvano fa causa al comune. Poi una notizia che arriva dalla Valle Roveto un ennesimo incidente mortale sul lavoro stritolato nel camion dei rifiuti vittima un operaio l'incidente è accaduto appunto in Valle Roveto. Allora lasciamo l'edizione di Pescara del centro andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto anche in questo caso leggeremo insieme quali sono i titoli principali anche in questo caso come per l'edizione di Pescara si apre con un fatto di cronaca cronaca giudiziaria in questo caso strangolò la compagna 18 anni Vasto condannato Martella sconto della pena con il rito abbreviato e poi la fotonotizia che riguarda lo sport questa querelle continua tra la Chieti Calcio ed il comune Pomponi getta la spugna e rinuncia allo stadio il patrono del Chieti non vuole gestire l'Angelini pochi giorni fa c'era stata invece una conferenza stampa proprio nella sala stampa dell'impianto di Viale Abruzzo dove sembrava fosse stato raggiunto un accordo ieri invece il dietro front e poi nelle cronache morì in moto perizia da rifare sull'incidente su questa morte di uno studente vastese e poi siamo a Chieti la nostra casa svenduta per 1000 euro gli ex proprietari IRCAM si fanno sentire poi a San Vito allarme cinghiali in giardino ne ho contati 21 dunque cinghiali che si sono portati praticamente a ridosso della costa ma non è la prima volta lasciamo l'edizione di Chieti Lanciano Vasto la prima pagina del centro andiamo a vedere insieme quella che riguarda la cronaca di Teramo dunque prima pagina del centro edizione di Teramo Teramo e provincia tra qualche istante eccola qui baciò l'allieva due anni al professore docente di religione in una scuola media patteggia la pena e poi ci sono novità a Giulianova fotonotizia che riguarda il rimpasto di giunta Guido Baldi addio ora è di giacinto a rischiare il posto poi le cronache ex calciatore arrestato per spaccio aveva un chilo di ascisci in macchina e poi il piano del comune sempre a Teramo più sicurezza in città pronte 36 telecamere poi ad Alba Adriatica comitato prova a salvare Villa Flaiani e chiudiamo con l'edizione del centro di L'Aquila Avezzano Sulmona prima di passare al messaggero e dare uno sguardo velocemente ai titoli di cronaca nazionale come sempre ecco la prima pagina del centro cronaca dell'Aquila arrestati Riga e Mancini la nuova bufera giudiziaria post sisma nel capoluogo regionale nei guai per corruzione l'ex vice sindaco e il numero 2 dell'Aquila Calcio Roberto Riga da una parte Massimo Mancini dall'altra e poi in carcere Bearsi ex rettore del convitto sconterà 4 anni nel crollo del terremoto morirono 3 studenti una madre ma chi mi ridà mio figlio dunque ancora una vicenda legata al terremoto e poi vedete anche qui nell'edizione dell'Aquila c'è il richiamo sul lavoro accaduto in Valle Roveto con il 59enne stritolato nel camion dei rifiuti e poi a trasacco è morto il carrozziere che era precipitato dal tetto della sua casa alcune settimane fa allora lasciamo il centro passiamo al messaggero velocemente per andare a vedere la prima pagina del quotidiano di Roma e poi dare uno sguardo anche ai titoli di cronaca nazionale per poi come sempre dopo il meteo nella seconda parte tornare alla cronaca regionale prima pagina del messaggero di Roma De Luca indagato per la sentenza Napoli con il governatore sotto inchiesta per corruzione anche il capo staff un giudice il magistrato era nel collegio che aveva firmato il verdetto con lo stop alla legge Severino dunque nuovi problemi per il governatore della campagna occupazione gli sgravi fiscali spingono il lavoro a 900.000 posti fissi nei primi nove mesi e poi operazione giubileo in Milano Renzi vara i decreti con i fondi e poi questa notizia che riguarda lo sport ma anche la cronaca in un certo senso doping cadono le prime teste la Russia rischia le medaglie questa vicenda con la vada che ha accusato proprio la Russia e gli atleti russi andiamo a vedere le pagine interne del messaggero pagina 2 la scelta di Renzi sbloccare i fondi in simultanea per Roma e Milano e poi pagina 3 dopo Expo un centro high tech per genomica e big data il piano del premier trasformare l'area in una sorta di Silicon Valley europea pronto un miliardo e mezzo di euro in dieci anni a regime 1600 ricercatori questa l'idea del premier per il dopo Expo proseguiamo giubileo un'altra grana stop alla rimozione auto Roma dopo il blocco dei cantieri scaduto il contratto per i carriattrezzi servizi sospesi i sindacati dei vigili sono sul piede di guerra ora niente più straordinari tronca il commissario del comune di Roma media proseguiamo canone in bolletta pagheranno 2 milioni di famiglie in più dal governo solo mini ritocchi alla manovra tasi dubbi sugli sconti a figli e separati oggi il tavolo con i sindacati ma al senato è già pronto un maxi eventamento quattro senatori ex ncd minacciano di votare contro il pd dice i numeri ci sono possibile il sostegno di ala la nuova formazione politica che si è staccata da forza italia e poi a palazzo chigi sale nannicini l'addio di perotti sul nodo tagli entro natale nuova squadra economica il ruolo da sottosegretario per il docente della bocconi e poi padoan ministro dell'economia ora sulla flessibilità dice mi aspetto l'ok di brussel proseguiamo ecco il caso de luca in cui è stata aperta con cui è stata aperta la prima pagina del messaggero sul caso de luca sentenza pilotata indagati un giudice e il governatore il magistrato dette il via libera all'insediamento sotto inchiesta per corruzione anche l'ex capo segreteria e il marito della toga poi andiamo avanti ma quel verdetto resta valido la parola torna alla consulta la corte costituzionale si dovrà di nuovo pronunciare sulla legittimità della legge severino il nodo diventa politico attesa per le decisioni di palazzo chigi sulla regione e poi il gelo del governatore appunto de luca che dice fantasie macigno sul partito democratico ora un chiarimento proseguiamo e siamo alle vicende che riguardano il vaticano le nuove rivelazioni i corvi e la nuova vatilix basta con l'ossessione del potere il papa a firenze appello per il rinnovamento della chiesa sia inquieta e più vicina agli abbandonati agli imperfetti dio ci protegga detto il pontefice da ogni surrogato di immagine di denaro don camillo esempio da seguire dialogava con peppone e poi il cardinale parolin segretario di stato che dice attacchi isterici contro il vaticano vedete nella foto il bagno di folla ieri allo stadio artemio franchi di firenze per la visita del papa che è stato prima a prato e poi nel capoluogo toscano e poi in basso l'intervista al cardinale montenegro lattico di bertone lo rispetto dice ma io vivo in due sole stanze siamo alla cronaca internazionale muore smith con lui germania più europea aveva 96 anni social democratico sfidò i pacifisti appoggiando la nato la sua bussola la francia e la crescita comunitaria linea dura con i terroristi e poi restando in germania ma cambiando argomento migranti il governo merkel ci ripensa niente libertà di ingresso per i siriani e poi l'apocalisse smog nelle città cinesi record mondiale di inquinamento vedete una foto di come le città cinesi le più grandi città del dragone siano alle prese già con problemi di inquinamento cameron nell'unione europea quattro condizioni le richieste del premier britannico all'europa regole flessibili per gli stati membri meno welfare per i migranti intraeuropei in cambio il governo di londra chiederà ai suoi cittadini di votare no all'uscita dall'unione europea la merkel dice accordo possibile e poi vedete c'è questo articolo che riguarda l'incidente aereo accaduto sui cieli del Sinai in Egitto una decina di giorni fa si parla di bomba e dunque non di incidente bomba programmata per il dopo decollo dunque le indagini, l'inchiesta farebbero proprendere proprio per un attentato con una bomba programmata per esplodere dopo il decollo dell'aereo andiamo ancora avanti ecco il caso doping che riguarda la Russia medaglie russe a rischio il CIO pronto a cancellare le ultime vittorie olimpiche sospeso il laboratorio di Mosca il direttore si dimette l'ira del Cremlino accuse infondate non ci sono prove la Casa Bianca non c'è motivo di dubitare della vada e dunque anche in questo caso scontro Stati Uniti-Russia su questa vicenda a metà tra cronaca e sport e verranno rifatti test degli ultimi dieci anni e poi c'è una dichiarazione di Swasser l'atleta italiano che dice sapevo tutto già dal 2008 proseguiamo lo scandalo dell'olio non è extravergine indagate sette aziende bufera sui grossi marchi italiani Carapelli, Bertolli e Sasso l'etichetta non corrisponde l'accusa frode in commercio e poi la vicenda proprio dei fidanzati killer abbiamo visto prima come la sedicenne sarà difesa dall'avvocato Pescarese Lamorgia in carcere anche la ragazza il padre di Antonio fu assassino per amore l'omicidio di Ancona la sedicenne dice non gli ho mai detto di sparare vicenda ancora con molti lati oscuri e poi Economia lavoro con gli sgravi 900.000 posti fissi dunque aumentano i posti in Italia almeno secondo questa rilevazione e poi Pianeta Editoria si vede qualche luce si parla dunque di editoria di informazione in cinque anni gli otto big hanno perduto due miliardi di ricavi finendo a quattro miliardi ma nel 2015 il crollo sta rallentando cambia il modello di business ora le vendite pesano il 13% in più rispetto alla pubblicità digitale ancora su vedete poi questo specchietto che evidenzia i maggiori gruppi dei quotidiani italiani maggiori gruppi editoriali del nostro paese con RCS Mondadori Editoriale L'Espresso Sole 24 Ore Monriff Caltagirone Editore Editrice La Stampa e Class Editori dunque inizia a migliorare la situazione per l'editoria italiana siamo giunti al termine dunque dell'inserto nazionale del messaggero possiamo andare a vedere invece le pagine del centro sempre di cronaca nazionale poi tra qualche minuto apriremo come sempre intorno alle 7.20 la pagina del meteo allora il centro governo le misure occupazione aumentano le assunzioni come abbiamo visto anche dal messaggero per l'Inps 900.000 contratti in più con gli sgravi fiscali bene la produzione industriale Padoan fuori dalla crisi e Cook ai manager servire il bene pubblico poi corruzione indagato Vincenzo De Luca Bufera in Campania anche il centro dedica ampio spazio a questa vicenda incastrato da un'intercettazione del suo braccio destro favori ad un giudice che bloccò sospensione della Severino e poi scuola posto fisso per 49.000 professori ultima tornata di chiamate c'è anche Agnese Landini moglie del premier Renzi e poi le vicende politiche nel nostro paese in particolare del centro-destra Salvini prudente con Berlusconi si candida alla guida della coalizione ma gli servono i voti di Forza Italia Sport e potere la bufera doping l'ira di Putin accuse infondate dice il presidente russo che convoca le federazioni il CIO pronto intanto a ritirare le medaglie olimpiche l'inchiesta è partita da Bolzano e poi Gamba il CT amico dello zar se è vero farà saltare tutti e dunque si attendono ora le contromosse del presidente russo Vladimir Putin e poi il Rosa il talent scout italiano dice il Kenya è pulito per il momento ma sta diventando territorio di caccia ai giovani atleti proposte scorciatoie dunque anche questa vicenda potrebbe allargarsi anche in Africa e siamo alla visita del Papa in Toscana Firenze abbraccia il Papa mi piace la chiesa inquieta Francesco lancia la sua riforma non dobbiamo essere ossessionati dal potere pranzo alla Caritas l'incontro con i malati la messa allo stadio Artemio Franchi strapieno vedete le foto dello stadio di Firenze gremito all'inverosimile per salutare il pontefice e poi ritroviamo anche sul centro le dichiarazioni del segretario di Stato Parolin che dice contro il Vaticano attacchi isterici e poi a centropagina l'addio ad Helmut Schmidt il cancelliere illuminato scomparso a 96 anni e poi Gran Bretagna Brexit le condizioni di Cameron che chiede quattro riforme per evitare l'uscita dall'Unione Europea e siamo al delitto di Ancona avvocato pescarese difende la ragazzina abbiamo visto si tratta dell'avvocato Augusto Lamorgia e poi in basso un mare pieno di plastiche e rifiuti indagine shock di goletta verde lungo le coste e in sei isole italiane dunque mari inquinati ma questa non è probabilmente una novità e poi il rapporto di stati in Italia meno smog ma si spreca l'acqua siamo alle pagine dell'Abruzzo del centro allora prima di passare al meteo abbiamo tempo per vedere almeno qualche titolo la crisi alle spalle Banca Italia l'Abruzzo torna a crescere nel rapporto sul primo trimestre del 2015 segnali positivi per produzione fatturato esportazioni e occupazione ieri i massimi esponenti della Banca d'Italia erano a Teramo per parlare proprio di economia andiamo a vedere il servizio realizzato in merito da Elisa Leuzzo Nella prima parte del 2015 l'attività produttiva ha fatto registrare in Abruzzo un recupero in tutti i principali settori l'occupazione è aumentata in particolare nell'industria le condizioni creditizie hanno mostrato un graduale miglioramento nel settore della produzione sicuramente noi facciamo un'indagine sul congiunturale si chiama appunto che valuta dei questionari che somministriamo agli imprenditori e il 60% degli imprenditori dice che per esempio il fatturato è cresciuto e solo un 20% sostiene il contrario quindi il che vuol dire che la maggior parte degli imprenditori pensa che ci sia anche un futuro più roseo nella sostanza da questo è emerso anche un dato positivo per quanto riguarda l'occupazione esatto sì c'è un dato positivo che riguarda l'occupazione è un dato il 3,4% che è sicuramente un dato insomma di un certo rispetto dati positivi avete detto anche sulle condizioni creditizie davvero è cambiato il rapporto tra banche imprese e famiglie? ma questo è un rapporto diciamo che risente delle situazioni che via via si verificano le banche hanno avuto una serie di problemi si sa che sono state in difficoltà nel periodo del post Lehman Brothers e quindi c'è stato una serie di inconvenienti che l'hanno costretto a restringere il credito sono tornati a crescere comunque i finanziamenti alle imprese di maggiori dimensioni ma non alle piccole e medie imprese sì questo perché? è questo perché le piccole e medie imprese trovano sempre difficoltà anche nel rapporto con gli istituti di credito perché le garanzie si vogliono ovviamente gli istituti di credito vogliono garanzie e non è facile che le piccole aziende siano in grado di fornire queste garanzie questo dunque è il servizio sul rapporto economia della Banca d'Italia noi parliamo di Meteo alle 7.22 con il nostro Giovanni De Palma che abbiamo in collegamento diretto buongiorno Giovanni buongiorno Paolo buongiorno a te e a tutti i telespettatori allora Giovanni oggi 11 novembre l'estate di San Martino in Italia se non fosse per le temperature che sono seppur superiori alla media comunque abbastanza autunnali si potrebbe dire che siamo in estate perché c'è il sole bel tempo e quindi diciamo l'estate di San Martino in piena regola questo bel tempo che dura già da diversi giorni e che è destinato a durare ancora quanto Giovanni? eh sì Paolo è proprio l'estate di San Martino è proprio San Martino a proposito di San Martino diciamo la leggenda narra che proprio lui San Martino un nobile cavaliere un nobile cavaliere in un periodo di intenso maltempo scese dal cavallo e aiuta un mendicante comprendolo con il suo mantello da quel momento tornò a splendere il sole e quindi da da quel giorno insomma si narra che a San Martino insomma c'è la cosiddetta estate quasi estate quasi estate Paolo perché effettivamente le temperature massime che si registrano sulla nostra regione in particolar modo sulle zone collinarie ammontuose sono a dire il vero da inizio autunno perché superano superano abbondantemente i 20 gradi questo perché c'è una forte struttura di alta pressione che interessa gran parte della nostra penisola e continuerà ad interessare la nostra penisola almeno fino alla giornata di sabato questa campana anticiclonica così chiamata favorirà ancora condizioni di tempo stabile è prevalentemente soleggiato con qualche annumulamento qualche annumulamento di passaggio nubi alte e stratificate una situazione che non cambierà di molto ci saranno dei banchi di nebbia però al primo mattino soprattutto nelle valli dell'Aquilano ma attenzione perché tra domani e sabato non si escludono formazioni nebbiose anche lungo i litorali per il momento non c'è pericolo comunque di nebbia anche se con il passare delle ore e nella giornata di domani aumenterà la probabilità di banchi di nebbia sulla nostra regione questo clima insolitamente mite ricordo Paolo che le temperature sono ben al di sopra delle medie stagionali anche di oltre 15 gradi rispetto alle medie stagionali questa la dice lunga un po' sulla situazione meteorologica in corso non cambierà di molto poi da domenica l'alta pressione inizierà a ritirarsi lo farà in maniera graduale inizieranno ad avvicinarsi gli annumulamenti ma non saranno non sono previste precipitazioni di una certa consistenza perché insomma si tratterà comunque di disturbi disturbi che continueranno comunque annuvolamenti che continueranno a manifestarsi anche nel corso della prossima settimana anche se non si tratta ripeto di perturbazioni organizzate quindi proseguirà l'insolito clima mite sulla nostra regione il tempo stabile insomma benvenga il tempo stabile però attenzione perché queste situazioni poi possono potranno favorire comunque contrasti di energia termici insomma piuttosto elevati alla prima perturbazione che arriverà sulla nostra penisola perché ricordo che in questo momento le temperature si stanno sensibilmente abbassando a latitudini settentrionali quindi l'arrivo di aria fredda alle nostre latitudini potrebbe sviluppare perturbazioni anche di una certa consistenza lo ribadisco ma adesso non c'è problema non c'è preoccupazione non sono previste perturbazioni anche nel corso della prossima settimana Paolo e dunque Giovanni in attesa dell'arrivo dell'aria fredda comunque di una temperatura più diciamo adeguata al periodo io ti ringrazio ti auguro un buon proseguimento di giornata buon lavoro appuntamento con te domani sempre intorno alle 7.20 nel corso di mattino 6 grazie e buon lavoro Giovanni grazie Paolo una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 ringraziamo Giovanni De Palma come sempre puntuale con le previsioni che potete trovare sul sito www.abruzzometeo.org previsioni aggiornate in tempo reale anche con i live che riguardano le nostre province tutto quello che c'è da sapere sull'evoluzione del tempo nella nostra regione e poi la consueta pagina facebook del social network per interagire anche con Giovanni De Palma e avere anche in questo caso un quadro esaustivo della situazione meteo che riguarda la nostra regione noi ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 seconda parte di mattino 6 siamo alle pagine regionali del centro ombrina battaglia ad oltranza il governo ci metta la faccia questo il titolo dell'articolo di spalla sulla prima pagina d'Abruzzo del centro noi su questa vicenda anche sul pronunciamento del governo e del ministero abbiamo ascoltato alcuni esponenti delle associazioni ambientaliste abruzzesi vediamo il servizio un epilogo inatteso e che ha suscitato l'ira di tutti ambientalisti istituzioni regionali e schieramenti politici di ogni versante il nulla osta alle trivellazioni petrolifere e oggi a poche ore dall'annuncio gli ambientalisti iniziano la nuova battaglia ancora una speranza resta per l'Abruzzo beh è un atto di arroganza del ministero la battaglia però non è persa perché in realtà ancora non esce il decreto definitivo certo ieri si è segnato un punto a favore dei petrolieri inglesi dell'Arocopper che vogliono colonizzarci il mare della costa dei Trabocchi noi lo contrasteremo continueremo a contrastarlo e noi invitiamo i cittadini non solo a abbassare la guardia ma a moltiplicare gli sforzi perché in realtà hanno grossi problemi a imporre questa deriva in un mondo che sta andando in un'altra direzione dopo ieri la società meteorologica mondiale ha lanciato un allarme addirittura che se noi continuiamo a usare i combustibili fossili il nostro pianeta diventerà inospitale per le future generazioni ha detto proprio inospitale volontà popolare ignorata non è bastata una legge regionale né l'istituzione di un parco marino protetto per fermare il piano ombrina una battaglia che l'Abruzzo ha sostenuto studiando tutte le possibilità ci aspettiamo invece i risultati della via giudiziaria il VUF ha già presentato un ricorso al TAR contro il decreto che ha aperto la via a questa convenzione di servizi e stiamo valutando con i nostri avvocati se proseguire sulla via giudiziaria anche con eventuali denunce perché questa situazione è assolutamente irreale c'è un governo che non tiene conto della volontà popolare che non tiene conto della scelta di nove consigli comunali unanime di un consiglio regionale unanime veramente sembra una follia sembra di vivere in un incubo credo che neanche nelle peggiori dittature accada in questi termini la volontà popolare persino le dittature la rispettano di solito il servizio era di Francesca Romana Resti noi proseguiamo con le pagine regionali del centro aeroporto quanto ci costi dal regione altri 3 milioni doveva essere un contributo straordinario è diventato un'operazione salvataggio D'Alfonso dice governatore della regione punto di svolta ma il Movimento 5 Stelle presenta un contropiano dubbi sulla legittimità proseguiamo falso olio extravergine sette i marchi coinvolti ma questa è una notizia ovviamente di carattere nazionale siamo poi alle pagine provinciali partiamo da Pescara ragazzino inseguito e rapinato sul bus minacciato da due giovani marocchini alla fermata dell'area di risulta derubato del cellulare infastidita l'amica e poi sempre da Pescara cronaca armato di colterro il rompe nella farmacia si fa consegnare i soldi in cassa da due addetti della Perbellini ma la polizia lo blocca subito dopo e poi altre due notizie litiga con la moglie torna in cella e poi un incidente in via nazionale adriatica a Pescara scontro tra furgoni con tre feriti fortunatamente non gravi anziano precipita dal balcone e muore tragedia ai colli un uomo cade dal secondo piano e non perde conoscenza il decesso avviene dopo poche ore ladri nel bar portano via un computer sempre a Pescara e poi la trasmissione report fa rivelazioni sulla morte della figlia di Maniero avvenuta a Pescara Pescara fu uccisa per vendetta anziano e disperato nella sua valigia solo sogni e poesie trovato dalla polfer sul treno senza biglietto voleva andare in Sicilia per andare a trovare il fratello di 92 anni poi sempre a Pescara fumo e fiamme in un negozio di Viale Bovio anche in questo caso fortunatamente non ci sono stati feriti grazie anche al pronto intervento dei vigili del fuoco ancora cronaca dal capoluogo adriatico rispunta alla tassa di soggiorno un euro per ogni notte in hotel dalla maggioranza arriva il via libera all'applicazione della nuova imposta a partire dal prossimo anno tutti d'accordo sul contributo per i non residenti servirà a finanziare le attività turistiche in altre città la tassa di soggiorno è già in vigore ed è anche di 2 o 3 euro il ministero si ha salvataggio del comune parere favorevole alla richiesta di predisesto per risanare i bilanci ora la parola passa alla Corte dei Conti e poi lo stadio adriatico dubbi del CONI sul nuovo stadio l'opera da 40 milioni di euro proseguiamo il ponte del cielo non potrà impedire la vista del mare il comune invia le controdeduzioni alla soprintendenza che ha bocciato il progetto le critiche non sono fondate andiamo ancora avanti boom di domande per attiva l'azienda ha già ricevuto 550 richieste per 61 posti interinali da trasformare a tempo indeterminato e poi commercio negozi storici domani i premi all'aurum di Pescara e poi festival delle letterature un successo 20 mila presenze più 40% rispetto all'ultima edizione proseguiamo siamo alla pagina dell'Interland di Pescara Luciani parla da candidato siamo a Francavilla dice continuerò le mie opere è sempre a Francavilla la beffa della centralina a Pretaro non c'è smog Cepagatti cantiere fantasma pedoni a rischio denuncia di Paolini tutto fermo da tre anni il comune intervenga e poi sempre a Cepagatti lavori anti-esondazione oggi prima protesta sui vincoli proseguiamo Montesilvano scoppia la polemica in municipio il suocero del sindaco fa causa al comune iniziativa della ditta Saitem dopo l'urto di una sua vettura contro un palo l'amministrazione non si presenta ed è condannata Ruggero esponente del centro-sinistra dice via Maragno la replica il sindaco risponde ho ragione io vado alla corte dei conti e poi ancora da Montesilvano il cantiere blocca il traffico da sette anni il caso di un palazzo in costruzione in via Toti arriva in commissione di vigilanza l'attacco del consigliere Entoli Aliano aggredisce i genitori e ferisce un carabiniere siamo a Pianella giovane arrestato per i continui maltrattamenti in famiglia portato in caserma danneggia anche un tavolo ed un quadro dell'arma città Sant'Angelo l'opposizione dice tari sbagliata ora l'assessore si dimetta ancora Montesilvano stazione subito gli ascensori Silli lo scalo di Montesilvano dice il consigliere deve essere accessibile ai disabili sì al confronto con le ferrovie dello Stato e poi spoltore Montesilvano i vigili nomina comandanti la legge non si può cambiare proseguiamo siamo alla pagina di Penne Popoli Alta Val Pescara bussi mai vista tanta contaminazione il processo B sull'acqua avvelenata la rivelazione di un esperto dell'Istituto Superiore di Sanità servivano più controlli e poi corteo di protesta per salvare l'ospedale appena aderisce anche l'assessore PD Pasqualone no alla chiusura del punto nascite tutti in marcia a San Valentino in Abruzzo Citeriore conto alla rovescia per la festa del vino in arrivo 30 bus di visitatori e siamo alla pagina di Chieti in questo caso a Vasto in particolare il delitto dell'8 marzo ricorderete uccise la compagna 18 anni di carcere Giosef Martella ritenuto l'omicidio di Daniela Marchi sconto della pena con il rito abbreviato e interdizione dai pubblici uffici sempre a Vasto denunciati in quattro per le botte a due fratelli l'aggressione a luglio dinanzi ad uno stabilimento balneare devono rispondere di lesioni e rapine e poi truffa Aston Martin la difesa di Cicchini domani il processo al ristoratore dei VIP ma il parrucchiere di Lizio crede nella sua buona fede proseguiamo andiamo ancora avanti siamo alla pagina di Teramo del centro la cronaca un chilo di hashish in auto arrestato ex calciatore e poi prende il posto di lo perfido Tercas e Caripe e Monachino il nuovo direttore generale dunque importante nomina nel gruppo bancario abruzzese e poi la cronaca giudiziaria baciò un'allieva minorenne professore di religione patteggia proseguiamo l'aquila affitto come tangente riga messo agli arresti nuova bufera giudiziaria per i lavori postisma appalto per i salisiani da 28 milioni nuova bufera sull'ex vice di Cialente Mancini vicepresidente dell'aquila calcio ai domiciliari per corruzione su questa vicenda su questa nuova bufera societaria comunale all'aquila per quanto riguarda il post terremoto andiamo a vedere il servizio della nostra redazione dell'aquila è una nuova bufera giudiziaria quella che si è abbattuta questa mattina sul capoluogo una nuova inchiesta ancora una volta per presunte irregolarità nella ricostruzione post-sisma nuove arresti che riguardano due persone in vista della città si tratta dell'ex assessore della giunta Cialente Roberto Riga e Massimo Mancini costruttore e vicepresidente dell'aquila calcio per entrambi sono scattati i domiciliari ordinati dal GIP Giuseppe Romano Gargarella al termine dell'inchiesta coordinata dal procuratore capo della Repubblica Fausto Cardella e dal PM David Mancini le indagini portate avanti dai finanzieri del nucleo tributario coinvolge anche funzionari ed amministratori pubblici tra gli altri reati contestati c'è anche quello di corruzione mentre le misure cautelari stando a quanto appreso sarebbero in tutto quattro le fiamme gialle hanno effettuato una serie di accessi e perquisizioni nell'ambito del nuovo filone di inchiesta che stando a quanto appreso riguarderebbe i lavori di ristrutturazione dell'oratorio Don Bosco gravemente danneggiato a seguito del terremoto del 2009 agli inizi dello scorso anno Riga che aveva anche la delega all'urbanistica aveva rassegnato le dimissioni a seguito dell'inchiesta ad Autodesk sempre relativa ad appalti per la ricostruzione post-sisma la scorsa estate invece il tribunale dell'esame di Roma ha revocato gli arresti domiciliari per il vice presidente dell'Aquila Calcio Massimo Mancini Mancini era stato arrestato insieme ad altri due imprenditori il 13 luglio con l'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta nell'ambito di un'inchiesta riguardante i lavori di ampliamento della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma tutti fatti comunque risalenti al 2004 con i connotati della vicenda giudiziaria che inevitabilmente verranno chiariti nelle prossime ore resta il fatto di un nuovo colpo per la città che faticosamente cerca di rialzarsi ormai sei anni e mezzo dal sisma proseguiamo su questo argomento due case e otto macchine la bella vita da vice sindaco dagli accertamenti bancari spuntano numerosi movimenti di denaro il GIP dice le operazioni attestano un tenore di vita al di sopra delle entrate e poi inchiesta a Casalesi ecco gli 11 imputati fissata il 21 dicembre l'udienza preliminare per discutere il rinvio a giudizio dei Ditella e degli altri dunque ancora pagina dell'Aquila ancora cronaca che riguarda il post-sisma arrestato Bearsi ex rettore del convitto il provvedimento dopo la sentenza della Cassazione dovrà scontare 4 anni per la morte di 3 studenti proseguiamo siamo alla pagina di Avezzano del centro ritroviamo questa notizia che riguarda l'ennesima tragedia sul lavoro nella nostra regione operaio stritolato nel camion dei rifiuti un 59enne di Balsorano muore mentre cerca di sbloccare un ingranaggio il dramma nell'impianto Gea davanti ai colleghi e poi brucia i capelli alla ex lo cerca l'Interpol Celano Macedone non si presenta al processo per mesi aveva picchiato e minacciato la ragazza e poi a Carsoli droga nascosta nel riso in testa ai carabinieri arrestato un cinquantenne che cerca di disfarsi di cocaina lanciandole dalla finestra prima di ripassare allo sport siamo al messaggero e poi al quotidiano la città di Teramo partiamo dal messaggero per vedere quali sono i titoli delle pagine di cronaca regionale del quotidiano di Roma la prima pagina che ovviamente parla della nuova bufera all'Aquila sul postisma arrestato l'ex vice sindaco di costruzione nuova bufera mazzette affitti d'oro per avere l'appalto dell'oratorio salesiano ai domiciliari oltre all'ex vice sindaco anche il vice presidente dell'Aquila Calcio Mancini tra gli indagati l'ex capo dell'Usrai Aielli e poi piano di rientro per Pescara via libera da Roma e poi la fotonotizia l'operaio morto nell'incidente sul lavoro accaduto a San Vincenzo Valle Roveto seconda pagina regionale si parla dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara altri 3 milioni per la saga Movimento 5 Stelle all'attacco contro Giunta Ryanair e Aeroporto e poi ora Ombrina divide il PD D'Alfonso dice occorre una seria riflessione Banca Italia adesso è vero l'Abruzzo torna a muoversi Carruba Carichieti passaggio fondamentale abbiamo visto il servizio di Elisa Leuzzo proprio con l'intervista al l'esponente di primo piano della Banca d'Italia Carruba che ieri è stato a Teramo tangenti anche per ricostruire l'oratorio ai domiciliari l'ex vice sindaco del capoluogo Roberto Riga il vice presidente dell'Aquila Calcio Massimo Mancini indagati pure i costruttori Simone Lorenzini e Sandro Martini i funzionari pubblici Vittorio Fabrizi e Paolo Aielli il sistema il sistema riga intreccio di acquisti di case auto di lusso e scambio di assegni sospetti gli elementi d'accusa sarebbero frutto di indagini bancarie e non stavolta di intercettazioni telefoniche nel mirino dei finanzieri 14 mezzi tra Mercedes Smart Mini e Volkswagen vedete nella foto il procuratore capo della procura dell'Aquila Fausto Cardella siamo alla pagina ancora dell'Aquila Cialente il sindaco amareggiato da questo fango sul caso Don Bosco come sempre noi ci siamo fidati molto dell'usra dice il sindaco che sicuramente ha applicato le regole con Roberto Riga ho condiviso l'immediato postisma se le accuse fossero vere mi sentirei dice ha detto il sindaco Massimo Cialente davvero tradito il primo condannato definitivo da ieri in cella il preside del convitto dopo i quattro anni di pena confermati in Cassazione ebbe arsi avarcato il cancello del carcere di Udine e poi ancora su questa vicenda parla De Matteis dice cialtronesco il silenzio dei due consiglieri dell'IDV sul caso De Santis questa ovviamente è una notizia che riguarda non questa vicenda dell'inchiesta a postisma ma questioni politiche del comune dell'Aquila cip e cioppa giudizio maestra e direttrice nel giugno prossimo a processo per maltrattamenti nella struttura convenzionata con il comune proseguiamo compattatore impazzito orribile morte di un operaio abbiamo visto quello che è accaduto a San Vincenzo Valle Roveto e poi a Sulmona era stato assalito dei cani fa il matto in ospedale Trasacco cade dal tetto muore dopo due mesi e poi ad Avezzano autista aggredito l'azienda denuncia l'ex Arpa annuncia un esposto complimenti al dipendente ancora Sulmona per l'assunzione di due disabili altro pastrocchio e poi la regione ha deciso la centrale Snam si farà Pescara il piano finanziario incassa il primo sì il ministero dell'economia e delle finanze chiude l'istruttoria l'assessore Sulpizio tiene le dita incrociate e dice aspettiamo Alessandrini gli scontrini pago io sotto i 2.600 euro le spese sostenute dal primo cittadino per le trasferte a Milano va dalla zia o da un amico e vedete poi il centro-destra l'attacco perché sono stati affissi sono spuntati negli ultimi giorni a Pescara dei manifesti contro il sindaco Alessandrini in cui è scritto dimettiti proseguiamo pagine d'arte nel calendario dell'arma il colonnello Paolo Piccinelli svela l'edizione del 2016 ieri in tutti i comandi provinciali dell'arma è stato presentato il calendario dei carabinieri per l'anno 2016 quella scatola non rispetta Piccinato Carlo Pozzi boccia il progetto del nuovo stadio il pregio dell'Adriatico e l'andamento curvilineo della tribuna Maiella proprio l'altro giorno c'era stato un importante riunione in comune invece per la riqualificazione dello stadio Adriatico con anche la presenza del presidente della Lega di Serie B Andrea Bodi Impastaro voce del CONI garanzie per l'atletica chiede il presidente regionale del Comitato Olimpico Nazionale acqua controlli lungo tutta la filiera i periti incastrano i vertici di H è dato e poi la cronaca assalto con il coltello alla farmacia per Bellini fermato a Rancitelli il sospetto rapinatore poi botte ai genitori per la droga arresto bis dopo due mesi Fescara area metropolitana Malikaian va al massimo teatro esaurito da giorni la cantante dalla voce inconfondibile approda stasera a Pescara con il tour knife e poi colibrista Gione Magica abbonati a quota 100 festa del vino al centro storico da oggi a domenica in piazza Garibaldi a Pescara un tendone da 300 posti pagina di Chieti del messaggero la battaglia dell'indennità in campo un super avvocato i dipendenti dell'università d'annunzio ingaggiano il legale che ha battuto l'ateneo di Siena parte una diffida per annullare il taglio delle buste paga deciso ad agosto del 2014 soldi per Passo Lanciano ma adesso basta risse ora si attende anche la neve Chieti Comune e rottura rinunciamo allo stadio dunque nuova disputa tra la società Nero Verde e il Comune di Chieti è giallo anche sulla sorte della piscina l'assessore sospende lo sfratto di teatro Splashing Basca e Solidale Proger e Vasto aiutano il centro anti-violenza andiamo ancora avanti cronaca di Lanciano Vasto Ortono uccise la compagna nella festa dell'8 marzo condannato a 18 anni e poi per 15.000 euro si prendono la casa a due anni a padre e figlio Usurai Ortona 10 famiglie senza acqua ma la bolletta è un salasso a Lanciano candidature a sindaco Ressa nei partiti cronaca di Teramo altre 21 telecamere arriva il grande fratello l'assessore di Giovanni Giacomo dice lavori geniziati saranno tutte installate entro dicembre e poi la cronaca giudiziaria patteggia a due anni il professore che andava con l'alunna barchi malfunzionanti c'è il risarcimento la quota di multe dovuta agli errori delle strumentazioni sarà rimborsata il sindaco Brucchi dice abbiamo i nomi ci pensiamo noi pagina di Giulianova Roseto Val Vibrata Guido Baldi lascia ma il rimpasto non decolla Mastro Maura zera le deleghe con due rebus la proposta da vice a Filipponi è un mister X da trovare dentro civicamente l'alternativa è che il PD chieda due assessori in questo caso Di Giacinto sarebbe già pronto a rinunciare alla poltrona Val Vibrata Tortoreto restyling al palco Alba via il degrado dalla villa ancora Giulianova ex calciatore preso con un chilo di droga scuola bus a Teramo bimbo insultato l'autista è stato assolto e poi Roseto degli Abruzzi sarà Scorrano a sostituire la Ciancaione siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine invece del quotidiano la città di Teramo prima pagina del quotidiano la città che apre con la notizia che riguarda la vicenda del professore di religione della lunna professore che ha patteggiato due anni di pena al 35enne che baciò una lunna di 13 anni i due avevano una relazione e poi corruzione ricostruzione nuova inchiesta all'Aquila abbiamo visto e poi altri titoli che ritroviamo nelle pagine interne pagina 2 corruzione ricostruzione nuova inchiesta all'Aquila arrestato l'ex vice sindaco Roberto Riga il costruttore Massimo Mancini vicepresidente dell'Aquila Calcio entrambi agli arresti domiciliari pagina 3 Teramo ZTL Brucchi mette in chiaro le correzioni accordo fatto per i rimborsi agli automobilisti multati ingiustamente saranno risarciti entro l'anno dice il sindaco mille miglia si tenta il salvataggio in extremis delegazione della freccia rossa in città per discutere con il presidente dell'ACI Vincenzo di Gianluca e poi nuova intesa tra procure e corte dei conti dopo Imbrox e Inail siglato nuovo protocollo per lo scambio di informazioni andiamo avanti professore di religione patteggia due anni accusato di violenza per un bacio alla luna 13enne i due avevano una relazione e poi verso la brutta stagione fondi per il piano neve e obbligo di catene a bordo e poi Cretarola giudica tutti dopo la sentenza a Teramo Lavora stampa giudici e magistrati l'ex manager condannato a due anni offre la sua verità sui fatti la cronaca oggi i funerali dell'anziano cieco investito a Paduli di Campli proseguiamo ipogeo ancora scontro tra Campana e Luca Antoni l'assessore civico contesta l'impostazione museale e la direzione artistica e dice bando da strappare andiamo ancora avanti alle pagine della provincia siamo a Giulianova ex calciatore arrestato con un chilo di droga Gianluca Arcano ex provasto preso in autostrada con la moglie e figlia da quattro poliziotti fuori servizio Castellalto Vincenzo Di Marco si ricandida ufficialmente con il centro sinistra e poi cronaca autostrade in tirte per incidente mezzo di traverso in un'area di lavori proseguiamo ancora cronaca frontale sulla stratale grave un imprenditore il 46enne di Tortoreto operato d'urgenza all'ospedale di Giulianova a Santomero il comune mette a nuovo la scuola dell'infanzia e poi Don Luigino accolto con affetto dai cittadini di Sant'Egidio alla vibrata siamo a Giulianova l'assessore Guido Baldi si è dimesso la notizia era nell'area da tempo rimpasto di giunta sempre più vicino delfino spiaggiato ucciso da una rete da pesca è accaduto sempre a Giulianova e sempre a Giulianova Arboretti presenta due emozioni su piazza dalla chiesa Roseto intanto si muove in silenzio e sempre a Giulianova il nuovo porto sarà pronto entro il prossimo anno pubblicato ufficialmente il bando per la realizzazione della nuova imboccatura proseguiamo sbloccati i lavori alla foce del Vomano iniziata la demolizione della costruzione abusiva che bloccava l'opera siamo a Roseto e sempre a Roseto i più grandi esperti di turismo si danno appuntamento per un importante convegno e poi Marco Scorrano prende il posto della Ciancaione l'ex dirigente del settore ragioneria ha ricevuto un nuovo incarico dalla Regione proseguiamo Bidello assolto per lo schiaffo allo studente era finito a processo per la violenza privata e poi era accusato di violenza privata l'autista del bus non ha mai offeso il ragazzino assolto e poi Silvi lo scheletro del villaggio del fanciullo deve essere abbattuto secondo le nuove leggi sismiche più della metà della storica struttura incompiuta non potrà essere utilizzata proseguiamo pagina della cultura occhio a non sottovalutare l'Isis De Angelis l'esperto di sicurezza vola ad Arward e parla del suo libro andiamo ancora avanti c'è la pagina dedicata al calendario dell'arma e poi siamo allo sport Teramo in Coppa con la testa al derby oggi la sfida con la lupa Castelli Romani alle 19 spazio al turnover per rotta stangato tre giornate di squalifica per il fallo contro l'Arezzo e con lo sport siamo alle pagine del centro e del messaggero partiamo dal centro per vedere le pagine di sport regionale apriamo con il Pescara Oddo scuote Balotti e dice deve dare di più il tecnico l'ex Verona è forte ma bisogna essere più cattivi in campo e per gennaio chiede un rinforzo nelle retrovie Campagnaro gioca solo se non rischia la ricaduta emergenza in difesa l'alternativa è retrocedere il centrocampista Bruno o spostare Fiamozzi proseguiamo serie B parliamo del Lanciano l'attaccante Marilungo dice gol e salvezza per tornare in serie A dai successi nelle giovanini della Sampa l'Atalanda passando per gli infortuni l'amore per il calcio mi ha dato la forza per ripartire sarà così anche adesso proseguiamo siamo alla pagina che riguarda la Lega Pro Teramo mano pesante del giudice tre giornate di stop per rotta questa sera come detto la gara di Coppa Italia e poi l'Aquila si affida al Porta Fortuna San Domenico l'attaccante dice contro i Biancorossi ho sognato tre volte ma al Bonolis Maccarrone non ci sarà ovviamente i riflettori sono puntati sul derby l'Aquila Teramo che si giocherà sabato prossimo allo stadio Fattori passiamo alle pagine del messaggero prima di chiudere l'appuntamento di oggi con Mattino 6 parliamo ancora nella prima pagina dello sport del messaggero del Pescara Pescara dice il tecnico Oddo voglio più rabbia il tecnico analizza le ultime due sconfitte e chiede ai suoi una crescita caratteriale Lanciano in crisi e con l'incognita del Biondi Virtus penultima in classifica e ultima nell'anno solare e a proposito del Biondi probabilmente nella giornata di oggi si saprà se la gara di domenica in calendario con il Crotone si giocherà regolarmente al Guido Biondi o sul campo neutro dell'Adriatico di Pescara tornando al Pescara Campagnaro poche le speranze di recuperarlo e poi invece calcio di serie D Chieti la furia di Pomponi da oggi allenamenti all'alba giocatori in campo alle 6.30 ma ha detto il patrono non è una punizione Teramo in coppa tocca alle seconde linee e poi calcio a 5 UEFA Cup Pescara vuole la finale grande appuntamento da oggi a sabato l'elite round al Palasport Papa Giovanni Paolo II di Pescara in palio un posto per il girone di aprile che assegnerà il titolo i ragazzi di Colini debuttano alle 20 con i macedoni dello Zellerac Scopie prima alle 17.30 l'altra sfida squadre dal nome quasi impronunciabile siamo al basket Roger Chieti mese da brivido Trieste al Palatricale stasera a Chieti l'anticipo del turno infrasettimanale una ex grande della palacanestro italiana affronterà proprio la Roger Chieti noi siamo giunti al termine della nostra consueta rassegna stampa per non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione ricordarvi il prossimo appuntamento informativo con l'edizione la prima delle 14 del nostro TG6 grazie e buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti